Una serata bellissima dove molto più delle parole questa sera sono state significative le immagini, immagini straordinarie di una notte come questa, la notte di San Lorenzo. Candele sotto le stelle si è rinnovata anche quest'anno per la gioia di tutti quelli che hanno partecipato. Una serata straordinaria, almeno 50.000 persone si sono riversate vestite di bianco da Fosso Signore a Baia Flaminia. E' una serata bellissima, più c'è Gabi, c'è Gradara che non dobbiamo mai dimenticare che aggregano un sacco di persone. Una serata semplice, popolare, per cui ognuno partecipa come vuole, basta vestirsi di bianco, però è una festa magica grazie ai volontari di Candelara. Insomma siamo molto contenti perché siamo alla visilia della capitale della cultura e quella di questa sera è una grande cartolina per spiegare che cosa sarà Pesaro nel 2024. Alle nostre spalle, come potete vedere, abbiamo la scritta Pesaro 2024 con il logo, il brand per la capitale italiana della cultura che avremo il prossimo anno. Quindi anche quest'anno siamo carichi, siamo pronti e i nostri volontari stanno ritornando che hanno aiutato i vari bagnini sia nel piantare che nell'accendere i vari pali che sono lungo la spiaggia che creano questo serpentone di 7 chilometri di candele. Una alla volta con i cerini, una alla volta, quindi è lunghissima. No dai, 180 minuti più o meno, 185, due o tre ore ci vuole tutto tra spostare le candele, sistemarle, toglierle, la carta, riciclare tutto quanto. Quindi dai, circa tre ore di lavoro per una bella, immagino, una bella soddisfazione per tutti quanti. I numeri sono veramente alti perché abbiamo circa 20.000 candele di un peso complessivo di 20 quintali dislocate tra Pesaro, il comune di Gabizia e il comune di Gradara. In questa grande tavolata hanno tutti la stessa maglietta in quanto sono tutti collaboratori che sono stati coordinati dall'APA per la realizzazione di questa manifestazione così, possiamo dirlo, così riuscita. Sì, credo che sia un onore per tutti perché siamo poi tutti qua a servizio di una festa che è meravigliosa, una festa molto particolare. Quest'anno con tutte le candele lungo la battigia, tante persone che partecipano, un grande concerto e ora è il momento di fare festa anche per chi ha lavorato e quindi siamo tutti qua e stiamo festeggiando questa sera aspettando qualche stella cadente. Cosa dicono i turisti di questa festa? Allora, ai turisti piace, i turisti si trovano bene a Pesaro, tornano a Pesaro, abbiamo molte persone che tornano da anni ormai nella nostra città, è una città che può offrire molto e come sempre dobbiamo fare di meglio per essere più attrattivi e più accoglienti verso le persone che ci vengono a trovare. Una serata di festa, ma che allo stesso tempo abbiamo voluto dedicare anche alla scomparsa di Roberto Biagiotti, oggi che ovviamente ci ha fortemente colpito e tutta la città. Una serata comunque diciamo all'insegna della spensieratezza perché l'orchestra Casa Dei è una dei miti di più generazioni, lo vediamo anche questa sera nella piazza e soprattutto il connubio poi con la piccola orchestra Avion Travel crea anche un mix in una serata già magica con la nonna edizione del Festival delle Candele. Un giorno stavo ascoltando la radio e ho sentito Matteo Ricci che ha detto che lui è nato sulle note di Ciao Mare, che i suoi genitori fanno sempre cantare Ciao Mare e quindi l'ha cantata in diretta, io quando ho visto che l'ha cantata in diretta l'ho chiamato subito e gli ho detto bisogna che veniamo a Pesaro e facciamo Ciao Mare, quest'anno sono i 50 anni di Ciao Mare e quindi ancora più importante ho pensato, infatti lui ha accettato la sfida e l'invito, è nata una bella amicizia, e quindi insomma ci siamo, è il secondo appuntamento e speriamo di esserci anche quest'altro anno perché Pesaro sappiamo che è stata insegnata di questa bella cosa, capitale della cultura. Abbiamo parlato con Mirko Casadei in esclusiva e Mirko Casadei diceva come posso fare per rimanere in contatto anche con questa idea di Pesaro 2024, io ho lanciato un'idea che è quella di fargli fare l'inno di Pesaro 2024. Ah sarebbe una grande cosa, sarebbe una grande cosa perché la capitale della cultura ovviamente è un evento che valorizza la cultura del nostro territorio e noi dobbiamo essere bravi a farlo, la musica, Rossini, l'archeologia, le ceramiche, le tante cose belle che abbiamo, però deve essere anche una grande festa popolare, quindi se l'inno venisse da Mirko Casadei di certo sarebbe un successo e quindi insomma ci auguriamo che davvero possa farlo, anche perché come sentite è una musica gioiosa e noi abbiamo bisogno in un mondo, in un paese pieno di problemi di avere anche dei momenti gioiosi come stasera.